Parcheggia il pulmino davanti all'hotel, ma il mezzo si sfrena e lo travolge. Il brutto incidente è venuto a Doppi e è capitato a un sessantenne dipendente di una struttura ricettiva. L'uomo, stando alla prima ricostruzione, ha parcheggiato il pulmino davanti all'albergo. Poco dopo si accordò che il mezzo si era sfrenato, comunque non era stato arrestato correttamente. Ha cercato in tutti i modi di frenare la corsa, ma il pulmino lo ha schiacciato contro una recensione. A quel punto l'uomo è riuscito ad alertare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Cassel di Sangro, che agli ordini del capitano Giuseppe Testa stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'episodio. Il sessantenne è stato ricoverato nell'ospedale di Avezzano con diversi pori traumi. Qui i medici lo tengono sotto osservazione, anche se le sue condizioni, fortunatamente, non desterebbero particolari preoccupazioni.